Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Princess Castle Io sono Erika e loro si presentano a sole Io sono Fiona Carlotta Oggi siamo qui in compagnia di Mario Kartotto Se vuoi fare Kartotto va bene Deluxe Su Nintendo Switch Questa volta gioco solo io Ma c'è un motivo Adesso Adesso C'è la sfida Questo giro Gioco solo io E poi giocherà solo Fiona Solo Carlotta Perché abbiamo pensato una cosa terribile Un'idea di solo Fiona Poteva averla in effetti Una forma nuova di tortura Per cui adesso mi vendano Io gioco a Mario Kart con la venda Mentre loro urlano Destra a destra A sinistra Lancia lancia Abbiamo questa bellissima maschera Che è bellissima Te la indosso subito Così iniziamo già dal menù E adesso Cosa vuoi? E io non lo vedo Eccoli vuoi Ma non lo so Ditemi voi Vai tre Quattro volte Tre volte giù Uno Due Tre Una a destra Una a destra A posto Un personaggio del cavolo Adesso Vai ok Così com'è Se ho scelto il circuito Vai su qua Vai clicca Su qua Ok Stai da con il sud di traste Adesso Cosa è che vuoi? Questa è la sparazione Sì? E questo è per muoversi? Sì E a questo accelera Ok Vai un po' dritto Vai un po' dritto Cosa vuol dire un bel 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 dritto? No Destra Destra Dove cazzo vai? Vai ma non così tanta testa Destra? Ma non te... Dritto No Devi svoltare completamente Ok adesso sempre dritto Lancia il... Lancia il coso? Perfetto Stai sinistra Stai sinistra 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 Ok adesso sempre dritto Premi 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 Ok nonna Premi Premi Vai V myślę adesso Aspetta Adesso sei un razzo Adesso sei un razzo Adesso sei un razzo Adesso sei una razzo Adesso sei un razzo Adesso sei un razzo Stai andando in sol Nella Sei quinta Erika Vai Va Mi stai dicendo che vado a vedere così? Va Perfetto Ok sinistra 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 ok 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 sei su un rettilineo Sei su un rettilineo Avanti a destra adesso sinistra 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 forza dritto dritto fai dritta dritta Premi concorso premi vai ottava Dai vado io che era la tabba l'ultima che è quella più allenata Ditevi se è un rettilineo allora devi premere a in tanto per andare avanti Sta iniziando 3 2 vai dritto 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 un po' più a destra 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 leggermente a destra Perfetto vai abbiamo preso il turbo siamo sott'acqua dritto dritto un po' più a destra Ok ok adesso Ho preso un power up che scopriremo più a sinistra più a sinistra vai Lancio lancio Pumerangio destra 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 sinistra 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 Lancia destra 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 Lancio lancio Destra destra però dritto 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 Leggermente a destra buona 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 la pomaglia vai destra destra YuzzakOrizs No non così tanto vai dritto adesso Questo è una brutta destra e sinistra e poi destra Leggermente a destra leggermente non tuni caputo Dritto, dritto, lancia, lancio, adesso prendiamo il destra, vai, vai, dritto, dritto, abbiamo centrato un coso, fa niente, sinistra, sinistra, sto perdendo le corde vocali, destra, sinistra, scusami, e però abbiamo battuto uno, vai, vai, prendiamo il power up, no, non l'abbiamo preso, vai, adesso è il mio pezzo preferito, quindi destra, 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 sinistra, 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 E destra, 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 e neanche fa l'applicazione, vai, dritto, e manco questa volta, no, finito, finito, dodicesima, sono finissima di te, Pier, adesso ridela, ridi, 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 vai, valla, valla, adesso va molto meglio di me, siamo rovinate, guarda, andiamo in pensione, adesso tocca a Carlotta, doggy gong, vai, Allora, tre, due, tu devi accelerare, via, allora vai dritto e rettilino, troppo, piano, piano, destra, destra, pochino, no, troppo, 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 ok, un po' destra, 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 ok, è sempre dritto adesso, dai che abbiamo preso un bel power up, vai verso sinistra, vai verso sinistra, premi, ok, dritta, 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 perfetto, perfetto, stai saltando, premio ancora, destra, 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 e prendo di nuovo, ok, e allora, aspetta, destra, 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 dai vai, dritto, 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 un po' di più a sinistra, perfetto, non così tanto, ok, ecco, abbiamo facciato il fiore, sinistra, adesso a destra, destra, sarei bravissima io per il rally, sempre, sempre dritto, sempre dritto, è seconda, no, dodicesima, ma è seconda, ma la destra, si, sembrava un dritto, aspetta, lunedì, vai dritto, dritto dritto, 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 premi, premi, e adesso a destra, un po' a destra, leggermente a destra, beh, bravissima, bravissima, premio, leggermente a sinistra, leggermente a sinistra, gesta, destra, 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 ok, ditto, dritto, a sinistra grazie dai 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 sempre dritto sempre dritto non toccare proprio sempre dai andavo dritto dritto vai vai ti ha preso la stella sei invincibile dritto vai 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 destra leggermente a sinistra le bravi no troppo ok nooo hai preso anche due scatoli dritto vai dritto vai che sei undicesima hai preso il razzo no no e quindi il campione imbattuto sono ancora io sii dilettanti è un'angoscia è un'angoscia spero che questo video vi sia piaciuto se si proveremo a farne degli altri magari con delle challenge un po' diverse si state molto calmi mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate tanti like tanti commenti tanto tutto tanto tutto condividete il video andate a vedere anche degli altri video che abbiamo fatto perché siamo sicuri che vi piaceranno tanti baci e tanti bracci bracci ciao